Ciao amici, oggi sono troppo contenta, mi è arrivata una box che veramente non vedevo l'ora arrivasse è la box di American Unkle per chi non sapesse cosa sia American Unkle è un sito dove voi potete acquistare sia dolce che salato quindi snack da tutte le parti del mondo sia dolce che salati, io non vedo l'ora di aprirla, sono curiosissima ho sempre visto questi unboxing e non vedo l'ora assolutamente quindi mi munisco di forbici e vado ad aprirla sono molto molto curiosa allora allora non l'ho fatta fare senza glutine perché io sono incollerante quindi posso ogni tanto sgarrare guardate quante cose allora vi faccio vedere delle cose velocissime qui abbiamo un cinnamon toast crunch che è praticamente un biscotto alla cannella poi abbiamo mamma mia tantissime cose abbiamo il kinder creamy poi abbiamo questo che praticamente sono quelle caramelle che paletta del fuego shock questo è piccante dovrà essere mio dio mio dio poi abbiamo dei chupa chups questo qui è alla mela verde mentre questo è al cherry quindi è alla ciliegia poi abbiamo ah queste qui che ne vi disomere le risucchiano questa qui è una jelly straws ed è ha il gusto penso tutti i frutti no ragazzi sono troppo contenta questo qui è una un lecca lecca un lecca lecca sì fatto di mela caramellata poi abbiamo questo qui che è un air heat sherry quindi alla ciliegia poi abbiamo gli oreo dark and white chocolate questo qui che è un anuta quindi penso sia una cosa tipo con è della ferrero non l'ho mai visto quindi vedete sono snack che qua non vedete mai poi le sherry id le originali queste sono caramelle poi abbiamo anche queste qua che sono patatine di mais e patate e sono penso credo piccanti si chiamano hot fries credo di sì poi abbiamo questi che sono dei tipo delle arachidi non so bene cosa hanno sopra con la salsa bbq c'è scritto dietro poi abbiamo questo con cow taste che è praticamente uno stick al caramello no ragazzi io ero dieta però vabbè qua abbiamo dei nachos alla paprika poi abbiamo poi abbiamo i mini biscottini degli M&M's poi le pringles spicy queste devono essere piccanti se non vedo l'ora di assaggiarle è un sacco che non mangio le pringles poi i macaron alla nocciola poi abbiamo come bibita la coca cola al non lo so colpo di cena intergalactic non lo so lo assaggeremo quindi questa qua però la voglio mettere in frigo quindi e poi abbiamo la coca cola lime ultima cosa ma non per importanza avete visto quante cose ci sono qui dentro ci sono questi questa candy bag con i cinque gusti di caramelle praticamente questi sicuramente l'avete visti su tiktok per forza sono cinque gusti e dentro ci sono tutte le caramelle allora voi mi avete detto di assaggiare cose dolci quindi adesso cercherò e sceglierò due o tre cose dolci da assaggiare allora la prima cosa che vado ad assaggiare è questo cinnamon toast crunch sto sudando sto sudando caldo caldo paura io paura e caldo come sa di cannella però la assaggiamo è un tortino è un tortino alla cannella sento tantissimo molto buono se mi piace la cannella io l'amo anche nel cappuccino quindi per me top su cinque quattro sono curiosa poi di assaggiare questa che è la airheads cherry quindi alla ciliegia quindi apriamola ed è fatta così questa ottima e sa proprio di ciliegia solo dopo forse si perde un po' subito il gusto ma che problema c'è ne hai dato un altro borso ultima cosa che assaggerò visto che siamo in tema mi dispiace aver già assaggiato una caramella ma assaggero anche questa tanto il resto poi assaggieremo tutto è questo qua la candy bag quindi adesso vado ad aprirla c'è un profumo un profumo folle ci sono tutte le caramelle compresa ma ce ne sono tantissime tantissime vado a prendere la pizza la pizza guardate vado eh no vabbè queste da allora hanno dato il voto all'altro l'altro do un 3 però 3 su 5 questo 5 su 5 e io non sono fan delle caramelle però volevo prendere anche una diversa non capisco cosa sia ho preso un peggiorino ma non c'è più cerco un attimo dentro ok poi c'è questo sa di anas credo questa non mi piace tanto guardate che belle le conchigliette la assaggero rosa io questa non sa di tanto ultima questa qua tipo anguria anguria la pizza numero 1 ciao questa era la box che mi ha inviato American Uncle io vi lascio se volete provare sopra il sito ci sono un sacco di cose quindi voi potete scegliere veramente di tutto andate a dare un'occhiata e questo qua è il mio codice Carlotta05 col quale risparmiate 5 euro su appunto la vostra spesa fatemi sapere poi assaggeremo tutto insieme io vi mando un grosso bacio ciao ciao